Si sono svolti al Consiglio regionale gli Stati Generali sulla violenza di genere. Ginestra è stato il titolo dato all'evento, teso a significare il concetto chiave della resilienza e del coraggio delle persone che si affrancano dalla morsa maschile. E quanto si legge in una nota, i Stati Generali organizzati dall'Osservatorio regionale sul fenomeno hanno visto una lunga giornata di lavori, introdotte dalla coordinatrice Giusefino. Abbiamo voluto un grande laboratorio, ha detto, con un orizzonte nazionale capace di mettere a frutto esperienze, progetti ed idee per quanto ambiziose. Se non si comincerà a lavorare in seria sinergia, investendo sulla parità di genere, sull'educazione emotiva e sentimentale, coinvolgendo così come stiamo facendo il territorio, le scuole, le istituzioni, i mass media, continueranno ad esserci vittime predestinate di uomini violenti. In chiusura alle parole di Giusefino, ancora che dice della violenza di genere in Calabria, si sottolinea un quadro non confortante. La Calabria, infatti, è sopra la media nazionale per i reati spia, quali stalking e maltrattamenti contro familiari e conviventi e per i femminicidi, mentre sotto la media nazionale per il reato di violenze sessuali. Secondo i dati ISTAT sui accessi e pronto soccorso per motivi di violenza, la Calabria è tra i più bassi indici di incidenza d'Italia, ma secondo la stessa nota dell'ISTAT, i dati della Calabria non sono correttamente pervenuti. L'indice di femminicidi 033, superiore a quello medio italiano, va considerato come un indicatore importante sia per la diffusione del fenomeno e sia dell'insufficienza del sistema di prevenzione a sostegno e protezione della donna e dei figli.